Oggi ci spostiamo in Inghilterra, anzi nel Regno Unito per essere precisi, con questa Robinson Troupe, una birra dedicata e realizzata insieme agli Iron Maiden. Vediamo innanzitutto la scheda tecnica di questa birra, allora il produttore è Robinson's o meglio Robinson's Family Brewery, la birra si chiama appunto Trooper, lo stile di questa birra è una Bitter Ale o per essere precisi è una ESB, il prezzo di questa bottiglia è 5,90 euro per la bottiglia da 50 centilitri, acquistata in un cash and carry, il bicchiere suggerito è La Pinta e non si tratta di un primo assaggio. Allora vediamo un po' di precisazioni, partendo dal fondo della scheda, allora il bicchiere che suggerivo appunto è La Pinta, in questo caso utilizzerò esattamente un bicchiere brandizzato Iron Maiden, avevo acquistato non esattamente con questa bottiglia ma tempo fa, acquistato c'è un cofanetto in metallo che ora non ho qui ma metto qui una foto che comprendeva appunto una bottiglia e un bicchiere, il cofanetto è molto elegante perché ce l'ho esposto e riporta sempre questa immagine di Eddie che è la mascotte degli Iron Maiden, questa bottiglia l'ho acquistata recentemente che l'ho trovata invece sempre in un cash and carry e ho pensato di riacquistarla per fare una recensione. Per quanto riguarda lo stile, allora le Bitter Ale che sono delle biere tipiche appunto inglesi, britanniche, hanno la caratteristica di essere le biere ovviamente da un colore chiaro che tende da chiaro a rosso solitamente, una bassa gradazione alcolica, un amaro medio medio basso e sento di solitamente leggermente tostati o di caramello o di biscotto. In particolare le Bitter Ale si distinguono dalle Special Bitter o Extra Special Bitter, i ASB, perché le Bitter Ale diciamo che tecnicamente arrivano fino a 4,5 gradi con il volume del codico, da 4,6 fino a 6 più o meno si passa alla categoria Special Bitter. Questa birra qui ha 4,7 gradi quindi è esattamente uno 0,1 sopra il limite di tasso alcolico per entrare nelle Bitter Ale classiche, rientra quindi nelle Special Bitter o Extra Special Bitter. Il nome di questa birra si rifà al famoso brano The Trooper degli Iron Maiden dall'album Peace of Mind del, non mi ricordo più che anno, ma vado a controllare, dell'83, 1983, questo pezzo. Tra l'altro la stessa canzone che si rifà a una battaglia storica tra l'esercito inglese e l'esercito russo. Appunto il nome di questa birra si rifà a questo pezzo, perché? Perché c'è stata questa collaborazione appunto tra gli Iron Maiden in particolare, come riportato sul retro dell'etichetta, sentiamo prima le etichette appunto. Sul tappo dell'Eddie appunto, la mascotte degli Iron Maiden, tra l'altro è nella versione credo della copertina di Two Minute Two Midnight, ma non sono sicuro. Comunque c'è Eddie, c'è la scritta Created by Iron Maiden sulla prima etichetta in alto, sotto c'è appunto sempre Eddie con la bandiera del Regno Unito, così come appunto sulla copertina del singolo di The Trooper, il logo, cioè il fonte degli Iron Maiden che scrive la parola Trooper, che è lo stesso che poi ritroviamo sulla pinta. Sull'oretto ci sono informazioni, viene spiegata più o meno la battaglia appunto cui si rifà sia la canzone sia in questo caso la birra, una battaglia appunto del 1854, durante la guerra di Crimea, ecco viene spiegata. Vabbè se vi interessano i dettagli storici sono spiegati tutti, molto interessante, vengono indicati anche i lupoli utilizzati, in particolare, allora, vabbè, sentori di malto, note citriche, vedremo un po', non me la ricordo personalmente, però l'ho bevuta anni fa questa birra, quindi questa è solo la seconda volta che la bevo. Ecco, il blend di lupoli utilizzato è un po' bec, Goldings e Cascades. Allora, il Cascade è un lupolo americano diventato un po' famoso con le IPA moderne, il Cascade insieme a il Citra e il Mosaic sono diventati un po' lupoli appunto famosi con questa nuova rivoluzione delle IPA di stampo americano. Il Goldings, non americano, è inglese, infatti quello che ci aspettiamo in una bitter e ci aspettiamo è il Goldings, che è un lupolo utilizzato appunto nelle bitter, è utilizzato anche a volte come lupolo d'amaro nelle IPA e sempre come lupolo d'amaro, a volte anche in certe porte, in certe stade, comunque è un lupolo inglese. E è bobek, bobek è una cultivar di lupolo slovena, in particolare interessante perché questa varietà di lupolo è autoctona della zona dove c'è la città di Zalek, che ho nominato uno o due video fa per la famosa fontana della birra, dove c'è questa attrazione turistica in cui è possibile degustare alcune birre prodotte da birrifici locali che utilizzano i lupoli di quella zona. Quindi abbiamo due lupoli diciamo europei e un lupolo americano. Altre informazioni sono gli ingredienti, ce l'è scritto sempre sul retro che nel 2013 è stata ideata questa birra e lo stesso vocalista di Iron Maiden, Bruce Dickinson, ha lavorato con il birrificio Robinson per creare un prodotto unico. Mi spiace un po' dirlo, ma dai ricordi che ho, appunto l'ho assaggiata solo una volta questa birra, ma dai ricordi che ho avrei preferito che si impegnassero un po' di più Bruce Dickinson e il birrificio perché non ho un ottimo ricordo di questa birra e così come non devo dire non ho un ottimo ricordo della birra motorer, sempre per stare in tema birre e musica heavy metal perché esiste anche una linea di birra appunto ispirata ai motorer, sempre gruppo storico britannico e anche in quel caso forse ancora più di questa birra la delusione fu davvero davvero elevata perché se gli Iron Maiden sia in motorer personalmente non avevo presentato un punto fisso della mia adolescenza e è stata una grossa delusione in effetti assaggiare le loro birre, soprattutto quella dei motori, devo dire che nonostante il carisma di un personaggio come Lemmy quella birra è stata una grossa delusione, è vero anche ripensandoci dopo che Lemmy è famoso per fumare le polmolle e bere i Jack Daniels, se fosse stato famoso per fumare Coiba e bersi la Gavulin probabilmente ci saremmo potuti aspettare un prodotto molto più ricercato dal punto di vista organolettico, gustativo, aromatico eccetera. Ma tornando a questa birra appunto ci si sta fatta una descrizione anche estetica, anche abbastanza profonda, io direi che la possiamo aprire. Le pittere solitamente vengono tradizionalmente spillate a pompa direttamente dal casque, cioè dal fusto, dalla botte grande. La spillatura a pompa permette che non ci sia una carbonazione, quindi non ci sia dell'anidride carbonica che spinge fuori la birra dal fusto e questa anidride carbonica avvenendo a contatto con la birra in parte si può risciogliere e quindi generare una carbonazione del prodotto, ma venga appunto pescata. Con tutti i pro e i contro, perché per esempio il sistema che pesca la birra dal casque fa sì che la birra venga in contatto con l'aria, perché immaginate proprio come una pompa che aspira, se io aspiro del liquido dal fusto deve entrare dell'aria in qualche modo, perché sennò si creerebbe una pressione negativa all'interno del fusto o imploderebbe il fusto o non funzionerebbe più il sistema, insomma. Quindi vengono a essere già una valvola, viene chiamato polmone in gergo, che quindi permette l'entrata delle valvole di non ritorno di aria all'interno del fusto, ma se entra dell'aria, che non è anidride carbonica, ma quindi con tutte le componenti presenti nell'aria, tra cui l'ossigeno, sapete bene che il primo nemico della birra è proprio l'ossigeno. Quindi finché la percentuale birra-ossigeno è a favore della birra, ossia il fusto è appena stato aperto, non ci sono problemi di ossidazione. Andando avanti questa cosa cambia e quindi dipende dalla velocità con cui viene consumato il fusto, ma passando il tempo la birra pian piano tende a ossidarsi. Quindi il grosso problema anche da parte dei pubblica, cioè di chi acquista le casche o di chi fa in generale spillature senza anidride carbonica o senza carboazoto, è proprio capire i tempi di gestione di questa birra, perché vi dico, ho provato, cambia proprio se la spillate il giorno 1, la spillate il giorno 2, già cambia completamente. Se la spillate il giorno 3, tra il giorno 2 e il giorno 3 forse c'è il grado di ossidazione perfetta e vi sentite davvero con quella birra leggermente ossidata, ma non troppo, che vi fa proprio sembrare, vi fa proprio pensare di essere in un pub londinese, però dopo il giorno 3 incomincia ad essere davvero alta la percentuale di ossidazione nella birra e quindi potrebbe rovinarsi il prodotto. Insomma, dipende un po' ovviamente da tanti fattori. Quindi in generale ecco, i due fattori importanti per la spillatura pompa per questo stile di birra tipico come le sono ossidazione e carbonazione. In questo caso sappiamo già che l'ossidazione sarà nulla, perché è stata aperta adesso e in pochi secondi non può ossidarsi questa birra. La carbonazione non la conosciamo perché non sappiamo com'è la birra, quindi noi per avvicinarci il più possibile a una spillatura pompa, che quindi rompa completamente l'anidride carbonica all'interno della birra, possiamo provare a fare una mescita violenta all'interno del bicchiere per cercare appunto di desaturare il più possibile questa birra e avvicinarci a quello che potrebbe essere un'eventuale spillatura da casque. Ok, versandola in questo modo appunto cerco di desaturarla un po' e quindi avvicinarmi a quello che potrebbe essere una spillatura pompa di una bitter inglese. Adesso c'è da attendere un attimo che si compatti la schiuma. Nel frattempo mi si è aggiunto un gatto al video che non voleva sapere di stare fuori dall'inquadratura. Comunque, attendendo qualche minuto si è comparata la schiuma, ma comunque è molto persistente. Quindi sull'analisi visiva c'è questa schiuma persistente di color, direi color bianco sporco, comunque crema, leggermente diciamo bianco sporco, leggermente verso il color crema. Il colore della birra è difficile da inquadrare perché è un po' più scuro di un classico giallo paglierino, ma non arriva ancora propriamente al colore ambrato ed è anche abbastanza spento, nel senso poco luminoso come colore. È però piuttosto limpida come birra. Si riesce bene a vedere attraverso, riesco addirittura a vedere le impronte digitali sull'altro lato del bicchiere, quindi direi che la birra è piuttosto limpida. Passiamo quindi all'analisi olfattiva. Visto che parliamo di olfatto, una cosa importante che non ho specificato prima è la temperatura di servizio di questa birra, in generale direi delle bitter, che solitamente deve essere un po' più alta rispetto alla norma e in particolare per le bitter è sconsigliato scendere sempre sotto i 12 gradi, 14-12 gradi. Direi che la temperatura ideale è 14-15 gradi e la cosa appunto può spiazzare magari se non è delle prime volte che vi capita di bere una birra inglese magari spillata a pompa in un modo tradizionale inglese appunto, che è una temperatura un pochino più alta rispetto al solito, può sembrare un po' calda rispetto a una classica birra alla spina, in realtà la temperatura di servizio corretto è appunto attorno ai 12-14 gradi, proprio perché è il modo anche migliore per riuscire a percepire tutto il buco aromatico. E appunto a proposito di buco aromatico, in questa birra l'intensità olfattiva non è elevatissima, è media o medio-bassa, però ci sono alcune cose interessanti soprattutto tipiche di questo stile che sono appunto il caramello che si sente e leggermente anche una menuta tostata. Per quanto riguarda il gusto, allora devo dire che avevo un ricordo piuttosto differente da quello che sto assaggiando adesso, perché appunto il gusto ha una leggera discreta apertura un po' smaltata, non eccessivamente dolce, non arriva a livelli milosi di altre birre, ma comunque tutto sommato abbastanza dolce, a cui arriva giustamente un leggero, leggero sindore appunto di tostato e poi un buon, buonissimo amaro. È anche piuttosto persistente questo amaro, diciamo che è una bitter molto molto classica, nel senso potrei far fatica a distinguerla a quella che forse adesso io ho in mente, anche seppur commerciale, che ovviamente è la Fuller, la London Pride, che è stata per me il modo con cui ho conosciuto le bitter inglesi, anche sappiamo che da qualche mese Fuller è stato acquistato da un gruppo più grande, però appunto diciamo che io ho quella come idea di bitter in inglese con cui ho conosciuto appunto quello stile e quindi mi ricorda tantissimo quel tipo di birra, quindi abbastanza, non eccessivamente complessa, diciamo così, abbastanza semplice da bere con un buon amaro e anche abbastanza persistente. Forse avevamo un ricordo un po' spalsato, perché è assaggiato a tempo fa. Non è sicuramente un bitter eccezionale, probabilmente anche sempre per il fatto che appunto è distribuita dalla grande distribuzione, quindi ha tutti poi problemi che una birra delicata come un bitter è il bitter frontale per arrivare poi nel supermercato vicino a casa nostra, quindi diciamo che anche in questo caso mi piacerebbe poter riassaggiare questa birra direttamente sul luogo di produzione, però diciamo che altri fattori generali mi fanno pensare e anche altre recensioni soprattutto scritte all'estero, quindi vicino a un luogo di produzione, mi fanno pensare che non sia tutto sommato una birra particolarmente complessa, però come al solito non è che per forza servono birre complessissime, ci sono stili che non prevedono una elevata complessità, ma non sono tutte gheuse quelle che le birre che beviamo, per fortuna anche da un certo punto di vista. Quindi che dire, questa è la birra degli Iron Maiden, interessante, da cui ovviamente sarà difficile staccare anche il lato, come già avevo detto in un'altra puntata, il lato emotivo che ci lega a una birra, era la puntata sulla Lupulus Bruno, a cui dicevo che è stata una birra per me importantissima in un particolarissimo momento della mia vita e di conseguenza abbiamo tutta una serie di emozioni che difficilmente riusciamo a staccare nel momento in cui facciamo una degustazione. La stessa cosa è per questa birra. Per gli Iron Maiden c'è, ovviamente da parte mia un affetto e una gratitudine per un particolare momento della mia vita e comunque tuttora ascolto tantissimo ancora gli Iron Maiden perché era un punto ardine della mia cultura musicale e di conseguenza è difficile staccare le due cose. Che dire, ho già parlato abbastanza, è stata una puntata anche piuttosto lunga. Questa era la Robinson Trooper. Ah, una piccola nota. Di questa linea, sempre del birraficio Robinson, ho letto su internet ma non ho trovato mai in commercio qui in Italia, che esiste anche la Robinson Trooper 666, che ovviamente è ispirata a Number of the Beast, altro pezzone degli Iron Maiden, e la Robinson Beatename, che è ispirata a uno dei pezzi più belli forse degli Iron Maiden, che appunto ha lo Beatename, che però sono rispettivamente la 666 è forse una IPA o forse un'altra Beaterail, mentre la Trooper Beatename si rifà a uno stile belga, una belgia nail. Da quello che leggevo su Twitter però non sono commercializzate in Italia, ma solo appunto nel Regno Unito. Mi spiace perché un ragazzo che ho conosciuto tempo fa mi ha detto che aveva assaggiato, perché stavamo parlato di Iron Maiden e di birra, che aveva assaggiato questa birra qui appunto, la Trooper, la Bitter, e appunto che lui guardava buona ma non buonissima, invece mi ha parlato molto bene della Belgian. Interessante, sarebbe un bel esperimento se mi dovesse capitare di riuscire a trovare una bottiglia e fare una degustazione anche di quella. Comunque questa era la Robinson Trooper, birra fatta in collaborazione con Bruce Dickinson e gli Iron Maiden, scola! Grazie a tutti!